Della provincia più tranquilla d'Italia, Pier Nicola Silvis, questore uscente di Oristano, terrà un ottimo ricordo. L'ultimo anno di lavoro ha fornito numeri rassicuranti a partire dall'assenza di omicidi. Durante l'anno che volge al termine si è registrata una diminuzione di reati contro il patrimonio e un incremento delle attività di forza di polizia. Sono stati 21 gli arrestati e 137 i denunciati per diversi reati. Sulle strade sono stati controllati 15.000 veicoli e 20.000 persone. La percentuale dei furti commessi resta bassa e leggermente aumentata del 6-7%. L'unica preoccupazione riguarda le rapine. Se nel 2012 non se ne era registrata alcuna, il 2013 ha visto le forze di polizia intervenire per ben tre volte. Cala il numero delle richieste di ammonimento per stalking. Questo fenomeno però ha una doppia faccia, afferma Silvis. Da 9 del 2012 a 2 dell'anno in corso, in questo caso il doppio risvolto potrebbe essere dato da due fattori. Ci si chiede se realmente i fenomeni di stalking siano in calo o se siano comunque presenti, ma le vittime non abbiano il coraggio di denunciare. Il capo della squadra mobile Pino Scrivo ricorda il caso dell'indipendentista Dodore Meloni e del suo sequestro, sfociato poi in una denuncia. Si sarebbe trattato di una grave simulazione di reato. Importante è stata poi l'operazione in merito agli arresti per il sequestro di Titti Pinna. Pier Nicola Silvis si investirà l'incarico di questore a Foggia fin dal 30 dicembre, una provincia schiacciata dalla criminalità organizzata. Dioristano dice c'è tutto e si vive benissimo e prosegue è il miglior ambiente in cui io abbia mai lavorato. Il resoconto di questi due anni e mezzo di lavoro? Ho resoconto ottimo. Andiamo via con la provincia più tranquilla d'Italia ed è una grossa soddisfazione per uno che fa il mio lavoro. Sicuramente è nel DNA delle persone qui essere tranquille, nel DNA della zona, però è anche vero che in questo noi abbiamo cercato di fare alla nostra parte inserendoci con tutta una serie di attività preventive che hanno dato dei risultati di cui siamo molto soddisfatti. Quindi ritengo che Oristano per quanto risentra della crisi come tutto il resto del paese, però continua a mantenere un'eccellenza per quanto riguarda la tranquillità. Di grande importanza è stato anche il modulo operativo antirapina messo a punto proprio dal questore Silvis. Sì, abbiamo costituito questa attività preventiva molto agile e ci consente di mettere in atto tutta una serie di operazioni preventive con elicotteri, reparto prevenzione dei crimini, squadra mobile, digos, posti di blocco potenti, forti. Ecco, e questa è una cosa di cui siamo orgogliosi e che sicuramente ha consentito di limitare anche l'arrivare della criminalità dall'altra provincia. Cosa le ha lasciato Oristano? Tutto, nel senso che sono sicuramente gratificato dall'incarico che mi è stato assegnato, però vado via molto commosso ed emozionato perché come sono stato qui a Oristano, in Sardegna in generale, non sono mai stato da nessuna parte. Quindi ho trovato una grandissima classe semplicità, unità classe nelle persone che non è facile trovare insieme queste due caratteristiche. ringrazio tutti gli oristanesi, tutti, nessuno escluso, per l'affetto che mi hanno dimostrato e che ho dato a loro. È stata una bellissima esperienza. Grazie a tutti voi.